Musica Oggi è la presentazione del rapporto annuale INAIL, ovviamente la regione ha una competenza importante per quanto riguarda gli infortuni sui posti di lavoro e devo dire luce e ombre di questo rapporto perché abbiamo visto un dato riferito alla diminuzione dell'occupazione in Liguria però accompagnato da una riduzione del numero degli infortuni. C'è molto da lavorare, ovviamente adesso che abbiamo in mano i dati e quindi il trend di questo fenomeno nel nostro territorio possiamo attivare gli strumenti oggi a disposizione, il coordinamento, un tavolo che vede al proprio interno tutti i protagonisti coinvolti perché ovviamente sul tema della prevenzione degli infortuni e le malattie sui posti di lavoro occorre un lavoro sinergico tra tutte le istituzioni. E poi una governance, avere delle regole chiare facilmente applicabili su tutto il territorio Ligure quindi coordinando anche le ASI in modo tale che anche gli imprenditori, i datori di lavoro possano avere strumenti chiari, leggibili, in modo tale che possano essere messi in grado di offrire le migliori condizioni di lavoro ai lavoratori. Quindi una giornata molto importante che sicuramente darà impulso ancora di più al mio lavoro.